Come si tratta di inspeccione? Come si tratta di inspeccione? Durante la inspeccione dei VG, si tratta di attenzione a diversi aspetti. Entra l'altro, se una località ha un permesso, se è complica il punto nella maniera che si tratta di permesso, se è una località che si tratta di comienza o di bebida, si tratta di comienza o di bebida, qualità di acqua, lo che sta per parte di insecti e ingedirte, e mi senti in suo logico in place, e lo che sta molto tecniche, e anche per mettere attenzione arriva a gel e a higiene in generale. In connessione con la Covid, noi stiamo prendendo molta attenzione arriva al distanciamento sociale, e un metro e mei. Indicazione arriva a flore con l'ombre cercana per evitare di agglomerazione di gente. Indicazione per mezzo di posters, flyers, per uso corretto di hand sanitizers in forma corretta, con la lavaman per nostro store, logbook di limpieza in generale. Hopi enfasista wordi, poni arriva e punti nella attenzione, per limitar, evitare la transmissione di Covid, entri in auspicitanti e comunità.